Ema, Melissa, Inoltre, Asia, Dora, Giada, Romero, Caterina, Edoardo, Martina e Sara con un grande visitante, mentre non lo vuole, mamma mia vorrei dire che ho già sintonizzato da Puglia, Massimo Carini e Andrea Stavion e Carlotta Balli un bel applauso per semplicemente a lezione di ballo Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.